Quindi la proposizione 1 dice che se i mercati capitali svolgono una corretta funzione e sono perfetti, le imprese non possono crescere il proprio valore modificando la struttura finanziaria, è una declinazione diversa rispetto a quella che abbiamo visto fino adesso ma che vi veicola lo stesso messaggio, il valore di un'impresa è indipendente dai rapporti di indebiliamento, cioè non gliene frega niente a nessuno se voi finanziate 100% debito oppure 50% debito e 50% equity o 50% o 100% equity, nel caso di prima era 50% equity e 50% debito o 100% equity. Quando Modigliani vinse il premio Nobel per questa teoria i giornalisti in una conferenza stampa gli chiesero qual era il risultato di questa sua scoperta e lui disse, cercò di spiegarglielo con un esempio, lui disse che teoricamente il prezzo del latte dovrebbe essere il risultante del latte scremato e della panna, oppure con un'altra analogia sempre tratta alla cucina, se mettete insieme petto, cosce e d'ala di pollo non dovrebbero costare messi assieme più di quello che costa un intero. Quindi come voi componete le parti tra azioni e debito non va a impattare su quello che è il valore di un'azienda, questo è un po' data la premessa che non esistono costi di emissione, che i mercati di capitali funzionano perfettamente, che non esistono ostacoli agli incentivi al management, che il management sia onesto, provo eretto, che non esistono tasse, non esistono costi di fallimento, in questo mondo fatato, voi finanziatevi che sia debito equi di chi se ne frega. Noi abbiamo visto che esiste il nostro weighted average cost of capital, perché dobbiamo minimizzare il nostro weighted average cost of capital? Perché il nostro weighted average cost of capital è quello che mi crea poi il fattore di attualizzazione dei flussi di cassa, quindi mi sto al denominatore. Quindi quando io minimizzo il WAC, massimizzo il valore dell'azienda, no? Quindi minimizzare il WAC significa, il costo del capitale è aziendale, significa massimizzare il valore dell'azienda. E all'interno del mio WAC, guarda caso, abbiamo il debito e abbiamo l'equity, con le due percentuali sul valore dell'azienda. Allora, il nostro WAC, adesso questo è spiegato in maniera algebrica, vedete le spiegazioni si alternano, grafica, esempio, algebrica. I bravi docenti di finanza aziendale, non come me, che cerco le scorciatoie, perché ovviamente sto cercando di guidare la Ferrari dentro un garage, sgommando, e col tempo che abbiamo a disposizione ovviamente, col fatto che siamo in un corso di informatica, perché il management è un corso di economia. Quindi cerco di prendere la spiegazione delle tre possibili, più semplici, più impattanti. Quando guardiamo dentro il WAC, noi vediamo che abbiamo RA, che è la reddittività dell'attività, che è uguale alla nostra formula che conosciamo. Se noi la modifichiamo, noi troviamo RE, che è il rendimento atteso degli azionisti, è uguale a RA più RA meno RD per la percentuale di E, cioè del debito fratto l'equity. Un passaggio algebrico, sì, non si delunchiamo. Però all'interno di questa formula, voi vedete che noi abbiamo due componenti. RA, che è il rendimento atteso. dell'attività, no? L'attività dello stato patrimoniale. Quindi è il rischio di quel tipo di impresa, in caso di assenza di debito. Perché il debito, c'è il rischio finanziario, mi viene col secondo addendo, cioè RA meno RD per D fratto E. Ok? Quindi ho un mio rischio tipico di quell'impresa RA, che devo remunerare con RA, c'è quindi un rischio che devo remunerare con RA, e ho un rischio finanziario che devo remunerare con la mia seconda formula. La seconda proposizione, abbiamo visto che dice che RE, rendimento richiesto degli azionisti, varia in funzione del rapporto tra debito ed equity. Cioè, quanto più aumenta i debiti all'interno di un'azienda in rapporto al capitale, quanto più gli azionisti chiedono un rendimento maggiore, perché aumenta il rischio.